Tre punti per mantenere la vetta e gettarsi con decisione nel rush finale del campionato. Con questo obiettivo l'US Agropoli di Gianluca Esposito riceveva nel sabato del Guariglia la Virtus Avellino, formazione che veniva da un recente boom periodo di forma grazie alle tre vittorie consecutive fatte registrare nelle recenti partite. Al secondo tiro di Natiello alto, al quarto bella serpentina di Capozzoli destro bloccato da Robertiello. Al quarto d'ora i Delfini sbloccano la partita con una gran punizione di Natiello palla che tocca il palo prima di infilarsi. Alle spalle del portiere ospite al diciassettesimo pericolosi gli ospiti con una punizione di Cuciniello strepitoso Capone a dire di no sugli sviluppi del corner. Il colpo di testa di Tozza termina al lato. Al trentacinquesimo dopo un periodo di gioco con scarse emozioni, un disimpegno errato di Camanà favorisce il destro dal limite di Simeri. Palla fuori di poco. È l'ultima occasione di un primo tempo non molto spettacolare. Al secondo della ripresa punizione di Cuciniello e palla alta. Al cinquantaduesimo bel contropiede della squadra di Esposito, sgroppata di Capozzoli per il rimorchio di Natiello, salva Celentano sulla linea a Robertiello battuto. Al sessantaquattresimo sempre insidioso per gli ospiti, Cuciniello da fuori area, palla fuori alla destra di Capone. Al settantesimo si vede Graziani con una bella sgroppata, ne esce un tiro morbido che finisce sul fondo. Al settantaduesimo azione insistita di Masocco dalla trequarti, tiro di punta che termina un metro fuori. Al settantaquattresimo destro di Natiello dal limite blocca Robertiello. Al settantaseiesimo girata di Tandara in area sugli sviluppi di un corner, palla che viene salvata ancora una volta sulla linea da un difensore ospite. All'ottantaquattresimo viene espulso Robertiello per proteste, dato che la Virtus ha finito i cambi, in porta va Pascuccio. Al novantatreesimo in pieno recupero ci prova Doto a battere l'insolito portiere di rimessa. Palla alta, non accade più nulla fino alla fine. Una vittoria sofferta ma fondamentale. I Delfini si presenteranno mercoledì a Cervinara, con tre punti di vantaggio per una gara, che dirà molto sulle ambizioni dei Delfini per la vittoria del campionato.